ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale per questo nuovo video di oggi oggi di che cosa parliamo oggi andiamo a rispondere con la nuova camera che è arrivata che mi permette di fare questa tipologia di video quindi non vedrete FL Studio 12 dicevo andremo a rispondere a tutti coloro che mi fanno la domanda seguente che percorso di studio hai fatto per poter imparare le cose che stai insomma pubblicando come video sul canale innanzitutto ci tengo a precisare ragazzi visto che in alcuni casi si muovono critiche estreme che ovviamente questi sono dei consigli dei trick che si possono utilizzare studio su FL Studio su Ableton su Reason su Nuendo su Cubase su chi più ne ha più ne metta anche sulla piattaforma Mac perché le tecniche sono quelle ma che si possono utilizzare nell'home studio tante persone muovono molte critiche e diciamo non sono giustificate queste critiche ragazzi perché perché all'interno della mia stanza sto finendo l'insonorizzazione sto finendo la chiusura acustica della stanza a tutti gli effetti con dei diffusori sto lavorando e appena arriverà il cavalletto che ho ordinato da Amazon vi farò vedere tutta quanta la postazione nel dettaglio e ovviamente vi farò vedere come le mie casse sono staccate seguendo la legge della sezione aurea acustica ovvero queste casse seguendo le proporzioni di un terzo sono staccate di un terzo alla stanza rispetto al muro posteriore in modo da non avere un riflesso delle basse frequenze in modo da correggere i modi assiali i modi oblique i modi tangenziali all'interno della stanza che sono tutti discorsi molto complessi quindi ragazzi prima che arrivi un moralismo pesante o prima che si passi a muovere delle critiche pesanti questo è un canale che vuole insomma condividere delle conoscenze di livello base di livello più avanzato al base con tutti voi comunque ragazzi ritornando alla domanda che mi era stata fatta e a cui voglio rispondere che percorso di studio ho fatto fondamentalmente non ho fatto nessun percorso di studi la mia passione per la musica nasce sin dalla giovane età dai 5 6 i 7 anni e soprattutto nasce dal ascoltare quella che è la musica dance quindi essendo nato nel 92 parliamo anche del 95 96 97 98 quindi da piccolissimo e la domanda che mi si è sempre diciamo presentata nell'arco della mia infanzia è come posso riprodurre come viene generato insomma avendo una conoscenza basica di quelli che erano gli strumenti da orchestra una tromba un trombone una chitarra o comunque quelli che sono gli strumenti classici inquarrabili come tale da un bambino dicevo la domanda che mi si era posta era come posso riprodurre questi suoni che in realtà sembrano non appartenere a nessuna categoria in realtà quei suoni erano sintetizzatori erano casse generati da dei drum synthesizer erano i tr 808 i 909 erano quelli suoni da cui ero incuriosito ho iniziato diciamo delle piccole letture che potevano insomma essere leggere adatta ad un bambino da lì verso i 10 11 anni mi sono spostato nello studiare diciamo una parte della musica in cui capiamo come la nostra musica è composta come si organizza il ritmo le battute ovvero ho cominciato a mixare musica sui dischi in vinile e dai dischi in vinile poi sono passata a quelle che sono le moderne console digitali nel frattempo 12 13 anni ho iniziato a studiare un progetto su carta che poi ho realizzato ovvero assemblato il mio primo computer avendo assemblato il mio primo computer quindi la mia prima vera macchina così come la volevo io in quel momento non come diciamo mi era stata data precedentemente ma non perché la precedente non fosse valida ma non era potente abbastanza per poter ostare quelli che erano gli antichi programmi di musica ricordiamo marzo 2003 esce fl studio 4 che è il primo che ho utilizzato perché fondamentalmente le prime relays di fl studio se non vado errando e la memoria non mi inganna escono intorno al 98 ma lì ancora non avevo macchine per poter accedere ai sequenzer alle do quindi tornando a bomba sul discorso inizio con fl studio 4 inizio a studiarmelo inizio a leggermi il manuale in inglese inizio a cercare di capire a che cosa servono questi programmi che cosa si può realizzare con questi programmi e di lì ragazzi che cosa succede nasce la magia nasce la magia in che senso comincio ad utilizzare fl studio che era tutt'altro rispetto a quello che avete voi oggi a disposizione nel momento in cui cominciate ed è per questo che conosco fl studio nelle sue viscere perché insomma l'ho visto nascere crescere e correre se vogliamo proprio dire alla stile pampers comunque tornando e togliendo questa cavolata di mezzo nel frattempo ho visto anche altre do ho visto ableton ho visto reason ho visto cubase ho visto nuendo tramite queste piattaforme ho iniziato a capire come poteva funzionare inizialmente una piattaforma di diciamo di sequenza no sequenza ragazzi di sequenziamento lo sto cercando di tradurlo nel miglior modo possibile in italiano di musica elettronica e da lì diciamo ho iniziato a fare prove 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 a continuare a lavorare veri corsi veri e propri non ne ho seguiti ho studiato su dei manuali ho studiato sul The Mixing Engineer Handbook che è un buon libro di mixing che vi metterò qui sotto in descrizione vi avviso già che non è disponibile in lingua italiana ho studiato su un altro manuale ovvero manuale il The Mastering with Bob Katz se non vado errando il nome quindi è un libro di mastering che è stato scritto da Bob Katz è estremamente tecnico ma è estremamente utile affronta l'audio sotto moltissimi punti di vista come lo fa anche il The Mixing Engineer Handbook anche se in diciamo un grado tecnico minore però sono libri molto utili per iniziare a capire di che cosa si parla quando si parla di mixing e di mastering a prescindere da questo ho letto anche il libro Teoria di Acustica di Walter Pistons quindi ho iniziato a capire come funziona l'acustica in una stanza i modi obliqui i modi assiali i modi tangenziali il risonatore di Helmholtz e le bass trap quindi tantissimi argomenti e a che cosa servono tutti questi argomenti come viene accordata una bass trap come avviene la misurazione dei punti di prima e seconda riflessione all'interno di una stanza come le ottave del pianoforte e soprattutto l'ottava più bassa del pianoforte andando a suonare le note ci permette di comprendere qual è la risonanza principale delle basse frequenze nella nostra stanza e tantissimi altri argomenti quindi ragazzi il percorso di studi è stato variegato è stato da autodidatta ho approfittato dell'esperienza nel mixing e nel mastering acquisita nel tempo poi ho avuto modo di essere all'interno di alcuni studi per capire come funzionano delle stazioni analogiche per mixing e mastering quindi parliamo di SSL 4000 parliamo di compressori iniziamo a parlare dei tube tech iniziamo a parlare di quelli che sono i teletronics quindi di tutta quella che è la strumentazione fino ad arrivare a uno shadow wheel mastering compressor che a tutt'oggi un credo uno dei migliori compressori da mastering utilizzato nell'EDM che costa veramente tantissimo ragazzi da lì andando avanti nel percorso di studi che poi non è effettivamente scolastico perché il percorso di studi scolastico c'entra relativamente poco avendo fatto un liceo classico che insomma non poteva essere tantissimo di aiuto in quello che è il campo musicale diciamo entra in vigore invece meglio in questa in questo percorso quello che è il percorso universitario di ingegneria elettronica quindi inizio a capire la teoria dei segnali come funziona l'acustica possiamo iniziare a capire sempre poi studiando in parallelo anche l'informatica per essermi costruito il computer già a 10 11 anni avevo cominciato a studiare informatica ho continuato e a tutt'oggi i miei due lavori sono la musica e la programmazione questo mi ha permesso di capire come funziona il campionamento all'interno del computer come il segnale viene convertito ho potuto studiare quelli che sono i vari convertitori il dominio delle frequenze il dominio delle frequenze nella loudness e tantissimi altri argomenti quindi possiamo andare a collegare la fisica la fisica di un ambiente la fisica di una stanza con ad esempio la risposta in frequenza di una cassa quella risposta in frequenza come avviene rispetto a un determinato spettro a degli diciamo a delle microfonazioni a come queste microfonazioni sono pesate a bc weighted come calcolare l'SPL sound pressure level quindi la pressione sonora all'interno di una stanza e tutti questi argomenti ragazzi si sono andati ad unire insieme creando un discorso a 360 gradi che mi permette a tutt'oggi di comprendere e di capire quello che sto facendo quando faccio mixing e mastering di comprendere l'acustica di una stanza quando sono al mio interno e di non capire perché alcune persone continuano a scrivermi vedendo dalla webcam che metto sotto i video perché quella parete sia ancora vuota io ragazzi non voglio una stanza iper sorda sto studiando sto lavorando le trappole che vedete lì in altro le bus trap la trappola che è in cima le trappole in lana di roccia che ho qui alla mia sinistra più i pannelli piramidali che verranno sostituiti fra pochissimo a parte i pannelli piramidali già pronti le altri elementi di fono assorbenza e no di fono isolanza che sono due argomenti completamente diversi sono stati progettati da me sul computer utilizzando dei simulatori in base alla risposta in frequenza della mia stanza con una scelta di materiali di prima qualità quindi parliamo di tessuti acustici e parliamo di fibra di poliestere che sostituirà nella mia stanza tutti gli effetti quella che è la lana di roccia perché è analergica è ecologica ed è molto 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 più semplice da maneggiare quindi ragazzi riassumendo gli argomenti sono tantissimi potrei stare qui a parlarvi delle ore insomma di questi main come li chiamo io di queste tematiche principali che sono le cose che diciamo mi appassionano più nel lavoro che faccio e nella vita di tutti i giorni tutt'oggi continuo a studiare varie tecniche di mixing e di mastering ne creo alcune mie non mi faccio fermare da chi mi dice che non è possibile fare questo ragazzi non esistono cose impossibili con il duro lavoro ognuno di noi può raggiungere dei grandi risultati ovviamente con duro lavoro voi potrete raggiungere un mixing un mastering che alla fine potrebbe suonare comunque differente dal mio ma è proprio questo il bello di essere persone differenti abbiamo tutti un paio di orecchie sentiamo tutti i suoni in un modo differente di base quindi avremo delle sfumature differenti ed è per questo che il mondo è bello perché è vario e divertente ad esempio comunque ragazzi detto ciò la seconda domanda che mi fate sul mio conto è perché io abbia scelto come nome feelings feelings è l'unione di più parole intanto pronunciato per intero feelings da la pronuncia in inglese di quello che è i feelings quindi i sentimenti l'inizio del nome f e e l viene da to feel quindi dal verbo sentire il mio nome è federico f feelings iniziali riprendo nel mio nome federico e poi c'è all'interno links ovvero il nome dell'animale lynch in inglese che è uno dei miei animali preferiti come tutto il mondo animale essendo scritto al vvf ma in particolar modo i felini e ancora più in particolar modo le lynch che diciamo ragazzi adoro mi piacciono e niente è una cosa innata una passione innata e per questo sono anche il felice possessore di un gatto con due orecchie una goda e tante rotture di palle ragazzi perché il gatto è la cosa più bella è la cosa più rompipalle del mondo è per questo che lo amo fondamentalmente con questo ragazzi io spero di essere stato il più chiaro possibile come sempre di essere stato il più completo possibile nel rispondere a queste domande se avete altre domande sulla mia persona su quello che faccio sul progetto che svolgo scrivetemelo qui sotto nei commenti e sarà mia premura rispondervi il prima possibile e nel modo più chiaro possibile se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati condividete questo video con tutti i vostri amici che sono approdati magari sul mio canale sotto vostro consiglio e vorrebbero sapere perché sono qui che cosa faccio sono atterrato con gli extraterrestri non lo so in realtà non lo so neanche io non sono non so se sono io adesso che sto facendo questo video o è l'altro me sei tu no sei tu no e allora chi è non lo so nemmeno io comunque ragazzi sono molto confuso a quest'ora con questo ragazzi io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata ciao a tutti che se non ho ancora capito bene questo saluto serpentese